P4P Sistematevi in posizione di partenza. Uno, due, uno, due, uno, due, cinque. Uno, due, uno, due, uno. Due, uno, due, uno, due, dieci. Uno, due, uno, due, uno, due, stop. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. Uno, due, uno, due. Uno, due, uno, due. Cinque. Uno, due, uno, due. Uno, due. Uno, due. Dieci. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Cambio gamba. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Cinque. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Dieci. 2. Stop. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 10. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 15. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Stop. Cambio gamba. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 5. 1 2 1 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Tempo di recupero. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Stop! Tempo di recupero. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 3.ет. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, cinque. Uno, due, uno, due, uno, due, uno. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop! Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 10. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Stop! Cambio gamba. Uno. Due. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop! Tempo di recupero. Tempo di recupero. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dieci. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Cambio gamba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Tempo di recupero. Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop! Prossimo esercizio. Sistematevi in posizione di partenza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 Cambio gamba 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 Tempo di recupero 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 10 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Stop! Allenamento terminato! Grazie a tutti